io fino al 18 novembre sto qua e non me ne va no ma voi mi sono messo qua perchè devo prendere i biglietti dei tarli dei tarli uno spettacolo che si replica il 18 novembre alle 21 al cinema teatro San Demetrio i tarli l'altra volta era tutto esaurito guarda certi amici miei che sono rimasti senza biglietto se ma la gente è così si 18 novembre alle 21 i tarli al teatro San Demetrio io a che non me ne va no no i popoli i popoli i popoli il 18 novembre alle 21 i tarli e sia musica e poi ci facciamo a buttà ci stringhiamo canzone e tirammo a cantà e cammina cammina e chiamiamo a trovà la chitarra e oltre grazie a tutti